Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news sul prossimo capitolo di Call of Duty, iniziate subito a supportare il video con un bel mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Nuove interessanti indiscrezioni stanno circolando nelle ultime ore. Il prossimo capitolo di COD, che in attesa dell'annuncio ufficiale chiamiamo per semplicità a Call of Duty 2016, sarà a quanto pare ambientato in un futuro molto lontano. Avete capito molto bene perché se venisse confermato questo rumor, Call of Duty 2016 avrebbe un cambiamento radicale e porterebbe a qualche cosa di completamente nuovo nella serie. Si andrebbe quindi a combattere nello spazio, combattimenti spaziali. Infatti, se ben ricordate, su Call of Duty Ghost c'erano diverse missioni della campagna nello spazio, quindi la cosa potrebbe avere qualche fondamento. Il gioco sviluppato dall'Infinity World però sembrerebbe non essere un seguito diretto di Call of Duty Ghost come riportato da altre indiscrezioni delle scorse settimane e quindi si potrebbe immaginare inoltre un nuovo personaggio all'interno del cast come un discendente del cane Riley. L'unica cosa al momento quasi certa è che il titolo vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC nel mese di novembre. Activision ancora non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questa notizia, a questo rumor delle ultime ore, però ovviamente rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet che trovate con il link in descrizione per tutti gli aggiornamenti. Intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di un Call of Duty 2016 ambientato nello spazio. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.